Ed eccola la staccata della prima, Castoral che però andrà a Joker Lab perché era nella situazione peggiore, ahia! Intanto con il 108, Ximars riesce a prendere la prima posizione, ma Castoral è già di dietro puramente fatto il Joker, mentre Giovane Deven è andato a muro, Giovane Deven a muro! Sta provando con il numero 108, Ximars, che ha un nome, è ungherese, ha un nome assolutamente impronunciabile, perché ad ora è vero, e noi lasciamo perdere, lo chiamiamo Ximars, che già non è facile il nome, immaginiamo il cognome, immaginiamoci il nome, che è davanti però l'undelese, Bruno, che si chiama Bruno, ah, ma allora è solo stato scritto male dalla stampante, Schiazziamo, Bruno che va in seconda posizione delle spalle di Castoral, entrambi i primi due hanno già fatto il Joker Lab, Stessa cosa, la sta facendo attualmente Van Duven, e forse ci siamo persi qualcosina, perché probabilmente Struck, con il 46, forse ha già fatto il Joker Lab, qua lasciamo perdere la postazione numero due, non è il caso di andare subito a chiedere, l'ha già fatto? Tutti quanti, perfetto! Mi ero perso, Struck! The Young, the Young, in quinta posizione, in quarta posizione, e in quinta, a di seguire Van Duven! Quindi abbiamo anche scoperto, dalla postazione due, un nuovo gesto convenzionale, che non avevamo neanche prima fatto, ma che va molto bene, intanto Struck, con il 46 e lì, è alle prese, è alle prese con Van Duven, e sta cercando in tutti i modi, anzi no, con Schmier, per passare davanti, vanno all'inizio dell'ultima tornata, che chiaramente, però c'è un giro di Struck micediale in 47, 847, quindi, chapeau, per il numero 46, che sta mettendo insieme un megagiro, lui, Roman Castrol, ormai, l'abbiamo sempre, è venuto due volte, ma è sempre lì, è sempre davanti, quindi, ci siamo abituati, Bruno in seconda, Struck in terza, Bruno Zirmatz, Grazie a tutti,